Non chiamate la provocazione, l'amministratore delegato la definisce più che altro una scommessa. L'obiettivo è stato comunque raggiunto. La prossima settimana sarà scelto tra gli oltre 300 candidati la persona che dovrà sostituirlo un mese, ideatore di un piano commerciale con le strategie per incrementare del 10% le vendite di agosto. A Molfetta, nel parco del divertimento più grande del mezzogiorno, per lavorare non c'è bisogno della raccomandazione. È un grande meccanismo in cui circolano le idee e tutti si arricchiscono e secondo me è un buon metodo per selezionare in maniera trasparente delle persone e dei talenti. Le proposte sono arrivate un po' da tutta l'Italia, una anche dalla Turchia, ingegneri, casalinghe e anche un dipendente di un'impresa di pompe funebri. Ci credono i giovani, fare l'amministratore delegato di Miragica per un mese è una sfida interessante, oltre che un gioco. È stata lanciata una sfida dall'amministratore delegato, sembra una gara improntata alla meritocrazia, quindi vinca il migliore. Comunque andrà, sarà comunque una bella esperienza. Comunque andrà sarà un successo, possiamo dirlo? Sarà un gioco più che altro, quindi siamo in un parco divertimenti e ci divertiamo, e quel che verrà vedremo. A Migliaia invece i curriculum arrivati per lavorare nel parco dei divertimenti, la scommessa è riuscita, altro che fannulloni, i giovani di oggi. Noi abbiamo circa 20 posizioni aperte per quest'estate, sono 7-8 addetti alle attrazioni, ristorazione, negozi, accoglienza e tornelli, che dobbiamo chiudere da qui sostanzialmente ai primi d'agosto, quando la stagione è al picco, e quando avremo l'apertura notturna, tutte le sere Miragica aperte fino alle 11 e le notti bianche fino alle 4 di mattina, e li andiamo su doppi turni.